E' un amico, ringrazio Vigna Marlo, alta parola di bambini. Scusate, io sono in sostituzione di Luca che sta credo cercando un parcheggio per il suo mega camper e non riesce e mi ha chiesto di sostituirlo e se posso sono anche in rappresentanza di tutte le altre associazioni che hanno contribuito a questo cammino, oggi abbiamo visitato una splendida realtà che è la semente della Presidente Paola, ci sono veramente molti spunti in cui anche nelle Marche forse possiamo copiare alcuni aspetti e nulla, questo cammino Valentino ci aveva già contattato da gennaio e noi non abbiamo voluto avere nessun tipo di dettaglio su quali fossero le tappe, io gli ho detto immediatamente Valentino mi dici qual è il periodo e noi sicuramente ti sosterremo e ti accompagneremo in questo cammino perché a noi sembrava ed è sicuramente una bellissima idea. Ricordava... Ricordava...